Nuovi parametri per i contributi che la Regione assegna ad alcune categorie di malati cronici, sottoposti a terapie come la dialisi o alle cure per la talassemia o per altre patologie ematologiche. Le ha decisi il Consiglio regionale approvando all'unanimità una proposta di legge presentata da consiglieri sia di maggioranza che di opposizione. I benefici saranno definiti in base alla situazione patrimoniale. A partire dal 2015, gli assistiti con un reddito ISEE fino a 14.000 euro avranno un contributo di 240 euro al mese, mentre quelli con un ISEE compreso tra 14.000 e 21.000 euro riceveranno 120 euro mensili. Il contributo, erogato ogni due mesi, sarà destinato anche a tutti i pazienti sottoposti a trapianto di organi. Per quelli che effettuano dialisi domiciliare è previsto poi un contributo aggiuntivo di 150 euro mensili fino al tetto massimo dell'ISEE di 21.000 euro. Agli stanziamenti già previsti dall'articolo 21 della legge di stabilità si aggiungeranno circa 2 milioni di euro derivanti dall'applicazione delle norme sul bollo per i veicoli ultraventennali.